Si induce nel substrato, tramite l'acidificazione della vinaccia con acidi forti, un pH sfavorevole alle fermentazioni batteriche, ma non a quelle dei lieviti. È un intervento oggi largamente diffuso su tutto il territorio italiano. Si acidifica, con le adeguate precauzioni, più comunemente con acido solforico diluito in acqua o in liquido di scolo di altre vasche. In un lavoro del 1981, Versini e Inama, si è illustrata la variazione compositiva e organolettica fra grappe ottenute da vinaccia trattata e non trattata. L'analisi è andata molto nel dettaglio e ha riguardato composti fermentativi e varietali, nonché alcune aldeidi presunte colpevoli dell'origine del sentore rancido o da insilato. Oltre a un rilevante miglioramento della franchezza e finezza dell'aroma, con l'acidificazione si consegue un altro fatto importante. La sensibile diminuzione del tenore di alcol metilico. Questo risultato è assai confortante, poiché consente in molti casi di rimanere entro i limiti di legge anche operando con vinacce vergini, senza dover ricorrere alla colonna demetilatrice. Il trattamento di acidificazione delle vinacce, con presenza di una maggior quantità di liquido di imbibizione, sembra favorire anche una minor produzione di acetaldeide. La fermentazione alcolica può avere un decorso migliore e più equilibrato nei suoi prodotti intermedi, analogo a quello di un similvino. Il contenuto di acetaldeide nel distillato, che ne può determinare la negativa nota erbacea, è soprattutto legato all'impiego di anidride solforosa sulle vinacce da fermentare. L'acetaldeide, che rappresenta un necessario intermedio nella fermentazione alcolica, quale precursore dell'alcol etilico e il cui livello è regolato da un complesso di equilibri ossidoriduttivi di tipo enzimatico, viene complessata per oltre il 95% con l'anidride solforosa, nascondendosi così alla ricognizione olfattiva. Durante la distillazione si rompe il complesso con l'anidride solforosa e si recupera nel distillato l'acetaldeide che causa, assieme al suo derivato con l'alcol etilico, l'acetale, l'odore erbaceo. La maggiore corruzione della vinaccia può avvenire nel periodo intercorrente la sua separazione dal vino o soprattutto dal mosto e il suo arrivo in distilleria, dove può essere assoggettata a diversi trattamenti. In un periodo caldo, in meno di 12 ore, la vinaccia più giungere in distilleria alterata, con una riduzione consistente del suo potenziale alcolico. Considerato questo come un punto critico, i grappaioli concordano con le cantine ritiri puntuali rapidi e in molti casi anche un raffreddamento della vinaccia. In alcuni casi si è proceduto con metodi costosi come la neve carbonica. Anche in distilleria sono stati adottati metodi per la refrigerazione della vinaccia, ma sono risultati non efficaci quando il danno dovuto alla latenza si era già verificato.